A due passi dal centro, eppure così degradata, tra bivacchi disbandati e rifiuti abbandonati di ogni genere. Le telecamere di OSS Città arrivano oggi a Salerno, in piazza, caduti civili di guerra. A poca distanza da Corso Vittorio Emanuele, uno spettacolo davvero poco edificante per la rabbia dei commercianti. È una cosa nota, perché i commercianti, io sono qui da poco, però gli altri commercianti, insomma, hanno sollecitato più volte al comune. Questa è una piazza, malgrado sia un po' nel cuore di Salerno, però molto abbandonata. Ed è un peccato, perché una piazza piccolissima potrebbe essere una bomboniera, basterebbe poco. Io sono convinta che qua i commercianti, tutti quanti noi, siamo disponibili anche a collaborare col comune, qualora ci fosse una proposta, insomma, concreta. C'è anche chi non vuole farsi riprendere e consegna comunque un quadro della situazione poco incoraggiante, ricordando come tutte le segnalazioni fatte al comune siano finite nel vuoto. Proprio davanti al negozio di Marite si mettono, quando è chiuso, abbivacchiano, fanno, dormono sulle panchine. Insomma, c'è poco da stare allegri. Gli esercenti, oltretutto, lamentano non solo l'abbandono delle istituzioni, ma anche gli affari che stentano a decollare. Vigili non se ne vedono, oppure o vengono una volta a settimana, quando vengono, ma proprio abbandonati, commercialmente abbandonati. Diciamo, purtroppo, quello che dovrebbe essere il salotto buono della città, in realtà, insomma, è un po' abbandonato. No, 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 molto abbandonato. Che poi vede che il raggruppo del popolo, diciamo, che doveva spendere o il corso o altre zone tipo mercanti, ma qua siamo abbandonati.